Pronto? Sì! Sto lavorando, a lei sei? Vabbè, passo lì io dai, ciao, 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 ciao. L'ho detto che smontiamo a lei, sì? Non lo sa più. Che ne vuole ancora? Poi dice che non la devo spegnere. Pronto? Sì! No, 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 devo andare con mia moglie. Sì, e facciamo domani. Dai, te lo faccio sapere io. Ciao, 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 ciao. Che cazzo, ma io organizzo una cosa, organizzo l'altra e poi alla fine. Bene, io ce la faccio o no? Uh, eh, puoi il mio figlio? Pronto? Oh, sì? E perché ti muovi così? E c'ho lo scatto alla risposta. Sì, ha chiamato mamma. Ciao, te lo faccio sapere io. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.